68 ceri, 1 per ciascun platano. Numerosi cittadini che si sono dati appuntamento sabato 7 novembre, in via le 22 aprile a Novi di Modena, per dire no al taglio dei maestosi alberi, dando vita a un composto flash mob. Un gesto simbolico per esprimere la propria contrarietà rispetto a una decisione non avallata da alcuna perizia tecnica. Piantati nel 1947, gli imponenti platani rischiano di essere abbattuti nonostante non abbiano mai creato problemi, non presentino radici aeree e siano ben ancorati a terra. E dunque perché dovrebbero essere tagliati? Per risparmiare forse sulla manutenzione? Molti novesi però non ci stanno. Via le 22 aprile è un bene dell'intero paese e se gli alberi sono sani, devono essere salvati.